belli le casa allora dunque voi sapete che a me delle dinamiche non interessa niente lo dissi quando sono uscito dalla casa e qualcuno mi incolpò dicendo sei uscito proprio per questo no è per sì è perché non me ne frega niente delle cazzate non mi interessa dell'hype perché non ho bisogno come diceva qualche fenomeno di attaccarmi a qualcosa perché qui siamo tutti sulla stessa barca e io ho un lavoro anzi ne ho più di un lavoro addirittura e tra l'altro come avevo già detto tempo fa non sarei venuto alla festa di perla e mirko proprio per quel motivo perché come tutti voi purtroppo lavoro ma tu non sei stato invitato perché non eri nella lista degli invitati lo so perché quando mi fu chiesto vuoi venire alla festa che organizzeremo di qua e di là il sì no perché non perché non ci sono perché lavoro perché io ho il quadro di tutto l'anno dei miei giorni lavorativi e quindi mi fu detto ok allora non ti mettiamo nella lista degli invitati ecco perché non sono nella lista degli invitati premetto anche che non è che faccio queste storie perché ci rimango male no ripeto non mi interessa è che quando mi arrivano tante domande è giusto dare una risposta almeno no si fa un po la chiusa della situazione io non lo so sarà che mi piace vivere un po più tranquillo su queste cose infatti mi rendo conto nuovamente vi ripeto che non sono tipo da dinamiche allora e se stavamo troppo tutti insieme era per hype se siamo tutti lontani e perché abbiamo litigato e se siamo un po insieme un po per hype ma se siamo un po lontani e non ci si invita a me realtà marco sembra uno che va d'accordo con tutti l'abbiamo visto l'evento benefico in sicilia quando può partecipa per il resto lavora e facciamoci una ragione bene vi lascio un bacio ciao